Il termine sacro deriva dal latino sacer, che vuol dire consacrato, ossia in comunione con la divinità. Nell'antica Roma il concetto di sacro era connesso al fuoco, tenuto costantemente acceso dalle vestali in virtù del culto divino. Sacro è quindi ciò che è in unione diretta con il divino, ossia con la parte più alta che ogni essere reca in sé. Appare evidente, di conseguenza, come il senso del sacro non sia tanto da ricercare in un Dio astratto, in una religione che ci è stata inculcata o in uno schieramento politico, quanto nell'identificarsi con la parte più pura della propria coscienza e nel proprio modo di agire. La sacralità è vivere nel rispetto della dignità delle persone, nella lotta al male e alla corruzione, nella sete di giustizia. Come la vestale protegge e alimenta il fuoco sacro, la sacralità sta nel curare e preservare l'esistente dall'orda della guerra, dall'odio, dalla separazione e dall'indifferenza. La realtà acquisisce sacralità in virtù delle nostre buone azioni. Ogni gesto compiuto allo scopo di migliorare il mondo è un seme di bene piantato in un terreno che altrimenti sarebbe sterile. È il bene compiuto dall'uomo che rende sacra la vita, dandole senso e dignità. La vita non è sacra di per sé, ma lo diviene con il nostro modo di vivere. Ogni cosa può trasformarsi nel suo esatto contrario, e la realtà quotidiana ci mostra che questo mondo è sia un paradiso, in genere per pochi fortunati, che un inferno. Ora sta a noi scegliere da che parte volerci schierare, se da quella dei consumatori, degli indifferenti, dei dissagratori del mondo, o dalla parte di chi prova con coraggio, umiltà e spirito di sacrificio di dare senso e sacralità alla vita. Alleviare la sofferenza e il dolore con il proprio modo di essere, portare luce dove regnano le tenebre, alimentare la bellezza in una valle di lacrime, piantare un fiore in un terreno apparentemente sterile e abbandonato. Perché l'uso migliore della vita, come scrive William James, è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.